Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zooplayers, siamo su 11.11 o 11.11 Memories Retold, un gioco che omaggia i caduti della Grande Guerra, quindi della Prima Guerra Mondiale. In questo gioco qua andremo ad interpretare due personaggi, il primo è un giovane fotografo canadese che decide di abbandonare il Canada per partire verso il fronte occidentale in Europa e il secondo è un tecnico tedesco che dopo la notizia della scomparsa del figlio decide anch'esso di partire per il fronte. Entrambi i personaggi cercheranno di mantenere la loro umanità, di preservare la loro umanità e allo stesso tempo di ritornare naturalmente vivi dai propri cari. Questa era la piccola descrizione che c'era su Steam, altra cosa che mi ha incuriosito particolarmente, il reparto grafico di questo gioco qua, che riprende un po' in quadri impressionisti, quindi è come vedere una tela dipinta a prendere forma, a prendere vita. È particolare, non ho mai giocato a un titolo sotto questo aspetto qua grafico, ve lo propongo più che volentieri, piuttosto che magari i canonici Battlefield 5, anche perché su Battlefield 5 ragazzi non porterò la serie ma ci faremo delle grandi sessioni in multiplayer, quindi lo porterò sotto un altro aspetto sul canale, il caro e vecchio Battlefield 5. Comunque ragazzi, non si sa mai, ogni tanto esploro questi titoli qua che tante volte in rete hanno poco spazio, ma sotto alcuni aspetti magari ne vale anche la pena esplorare un attimino questi giochi semi sconosciuti per così dire, quindi non si sa mai, magari riusciamo a scovare un'altra gemma nei vari titoli di Steam. Comunque ragazzi senza perderci in indugi direi di continuare. Il gioco supporta la funzione di salvataggio automatico, non spegnere il sistema quando compare l'icona di salvataggio automatico, quindi il gatto. Ok. D'accordo raga, supporta appieno il controller, quindi andiamo avanti con, anzi va, sulle opzioni muoviamoci così, lingua italiana, sottotitoli, l'inarrativa acceso, ok. Attiva disattiva l'alto contrasto per i dialoghi. Spento? Vabbè proviamo a lasciarlo così. Grafica. Ok. Un momento. Grafica normale. Mettiamo alto. Apri tempo stazioni. Sì. Anche perché non credo sia un gioco che richieda eccessiva potenza grafica. Comunque, nuova partita ragazzi. Novembre 1916, a due anni dalla pace. Toronto, Canada. Che come vedete ragazzi la grafica è particolare, però mi ha incuriosito molto questa cosa. La mia storia comincia come molti altri, con una ragazza, una ragazza, una ragazza che lavorava in una ragazza fotografica, in una piccola piccola in Toronto, Canada. Giulia. Che stai facendo, Harry? Stai dovuto essere giocato con quella camera? The two of us grew up together. Born the same month, lived on the same block. To her, we were best friends. To me? Well, never mind. I know you have to test it, but does it always have to be on me? Ok, andiamo sullo zoom. Allora, apri e scattare una foto. Inquadra Giulia, premi A. Ok. Ok. Sbamba. Perfetto, continua. Ok. Altra foto. Vediamo il profilo. Eccola lì. Abbiamo un profilo un po'... Ma sì, dai, diciamo che sei venuta bene. Altra piccola foto. Là. Quante foto dobbiamo scattare? Ok. Fotografie gratuite. Premi Y per entrare in qualsiasi momento nella modalità fotografia e premia per scattare una fotografia gratuita. I rullini erano costosi, quindi fotografi potevano scattare solo 16 fotografie al giorno. Ah, ok. Va bene. C'è come la... a così c'è un chino? Ah, facciamo il diario. Ma lo c'è un diario. Cosa possiamo fare ragazzi? C'è un icono letto Non sapere ragazzi, vabbè, giriamo Saluta nel maggiore Possiamo correre? No, mi sa di no Lì c'era un discorso di una bottiglia Probabilmente ci siamo pescati qualcosa qua in fondo ragazzi Vediamo un attimo Giulia parla con il sergente, il tenente Dobbiamo sviluppare le foto per caso? No, comunque c'era quell'icona Un attimo, abbiamo una lettera qua Ok, allora connessionabile trovato Parte 1 di 2 Un momento Allora il signor Taylor mi ha chiesto di portare un po' di vino Ah ok, e sarà meglio che lo faccia L'occasione perfetta per scattare un po' di foto con la mia nuova fotocamera Ok, noi abbiamo le note 15 ottobre 1916 Mi ha dato grandi notizie Il signor Taylor ha ordinato una nuova macchina fotografica E dice che se mi comporterò bene forse me la lascerà usare 28 ottobre del 1916 Oggi Giulia ha riso a una delle mie battute Di solito alza gli occhi verso l'alto Oggi è una grande giornata 5 novembre 1916 Mi hanno detto che la macchina fotografica dovrebbe arrivare a breve Il signor Taylor vuole che sia io a impostarla e a provarla Giulia dice che è solo perché è troppo pigro per farlo da solo 10 novembre 1916 Ho detto a Giulia che le avrei scattato un po' di foto Se la macchina fotografica avesse funzionato Ha fatto un po' di resistenza Ma sono sicuro che me le farà scattare Sarà il soggetto perfetto Ok Di qua invece dove andiamo? Pagina 1 di 1 5 ottobre 1916 I lavori del dirigibile procedono bene Sebbene siano tutti molto stanchi Cerchiamo di farci forza per portare a termine il lavoro Le travi e l'impalcatura sono quasi pronte E le dimensioni di questo coso sono davvero impressionanti Sapere che un giorno solcherà i cerimi Mi meraviglia giorno dopo giorno 20 ottobre 1916 Presto arriverà il momento di cucire le borse del gas Ieri sera a cena Klaus ha ripetuto di nuovo la sua idea Che la pelle delle salsicce Sia il materiale migliore per le borse Ok Pensa che ha persino cercato di convincerci Che a breve ci sarà una carenza di salsicce Se la Germania continuerà a costruire dirigibili Abbiamo riso tutti Nonostante l'avessimo già sentito un centinaio di volte 7 novembre 1916 Mi preoccupa molto che Katrin Non abbia ricevuto più notizie da parte di Max Lì alla fattoria Cerco di non pensarci Ascolterò ogni giorno Le notizie di mio figlio E del fronte Questo è tutto ciò che posso fare D'accordo Vabbè c'avevamo le lettere Collezionabili Ok Giusto per dare una spulciatina Un attimino No Che cazzo è Indietro Dobbiamo trovare una bottiglia di vino Do cazzo la troviamo in cantina Molto probabilmente Altre lettere C'è un attimo Oltre il mare Ok vediamo un attimo Devi trovare tutte le parti per sbloccare la storia di questo collezionabile Ah ok Va bene Abbiamo anche una chitarra qui Un po' un tugurio questa stanza Però è possibile che non abbiamo un tastino per correre Eh la zia qua Sì sì Arrivo arrivo Sta cazzo di bottiglia Niente abbiamo preso la strada sbagliata Raga Dovevamo andare qua Ah al piano di sopra Sono proprio stupido Non avevo letto Probabilmente ce l'ha detto Tipo 50 volte però Ok Eccola qui Ah ok Pensavo Magari potevamo interagire con qualcos'altro Niente andiamo giù Portiamo la bottiglia di vino al maggiore Facciamo ubriacare per bene Poi Lo derubiamo Non è lo scopo del gioco Però magari se ci danno questa possibilità ragazzi Perché no La sua azia Ok ma che calici Ok ecco perché partiamo probabilmente Fotografo Al fronte Nello stesso momento Fabbrica di dirigibili Germania Ok Ok dobbiamo riparare Cos'è una radio? Mi chiedo cosa dicano Oggi alla radio Allora Premi A per selezionare L per spostare gli elementi Accenditi Questo bisogna manopola D'accordo Andiamo Vabbè guardiamo qua Se c'è qualche collezionabile Raga Niente Così ci inchiniamo Giusto Però andiamo anche più veloci Dio Katrin Ok è disperso Probabilmente è morto D'accordo Questo è l'altro personaggio ragazzi Il tecnico tedesco Grazie zio Torben Mi ha chiesto di attivare Vabbè la leva Torniamo anche la seconda leva Dattelato Oh, Falk ha dich besucht Ah, devi parlare con Frank Cazzo si chiama Lumi teteschi ragazzi Già ho difficoltà con l'inglese Figuriamoci col tetesco Ok E questo è lo zio che ci vuole parlare No, non è lui Mi sembrava lui La compagnia sua Perchè ci ha dato quel punto Ah no Era il punto della scala Ok Raga Io non so se Stiamo andando giusti Però A me sembrava quello in basso Con cui dovevamo parlare Allora Interagiamo A destra Non ci fai a buttarla a destra No, eh Molla Uff Che cazzo Ho schiacciato due volte La via Ok Ma io penso che C'è qua sul tiz C'è Ma che cazzo Da vertigini raga Por cazzo Qua la sicurezza Di niente assente No, in der Einheit Sie haben sich alle Zusammen gemeldet Alle aus demselben Dorf Wolf sagt, dass es noch nichts bestätigt Ist bestimmt nur ein Missverständnis Das würde ich gern glauben Aber es war die Nummer ihrer Einheit Und wir haben Krieg Kurt, dein Sohn Max Ist doch auch in der Einheit IA 125 Machst du dir keine Sorgen? Entspann dich Ihr macht euch alle nur so viele Sorgen Weil die Heimat so weit weg ist Kannst du den Direktor fragen, Kurt? Er weiß bestimmt etwas Und er respektiert dich Ok, Salvatage Torniamo A Harry Allora, scegliamo la foto La foto La foto di Giulia Beh, oddio Questa non è male Questo è un profilo mancato Questo è un primo piano No, io direi sta qua ragazzi La prendiamo un po' più Sì, questa è una foto da portare via Ok Harry Where are you, boy? Get out here and take a photograph of the major E' calmo, zio No Ci tratta una merda Ecco perché siamo partiti Non c'è rispetto per noi qua Arrivo Come on boy Do your damn job There's no rush I'm sure that that strike is best So make it a good one boy Ok Allora No, dice Giulia Ma Il punto di interesse Scattare queste foto È una tua scelta Quello che fotografi Influencerà La morale di Harry Ah ok Quindi Probabilmente Immagine Obiettivo Questi sono i tuoi obiettivi attuali In quanto fotografo Spesso dovrai scattare foto Per avanzare nel gioco Ok Beh giustamente siamo dei fotografi Maggiore Sbam No c'è problema Facciamo delle fotografie Prodette Padere Che cazzo dici Allora Uno Due Tre Ok Vabbè Diventeremo anche noi Harry Non ti preoccupare Tempo al tempo Ok Dobbiamo parlare con Il direttore Dove lo troviamo però Ragazzi Le musiche in sottofondo Sono fantastiche Immaginate l'ansia Di un genitore In questa situazione Ah Si come genau Richtig Eskip no ich karten Aia Devo trovare mio figlio a ogni costo Ma Perché se ne va zio Un momento Spulciamo un attimo qua C'è niente Va bene Dobbiamo andare giù Probabilmente Deve dare Delle brutte notizie Unque Moch Männere Aus der IR 125 Werden Zwar Vermisst ma per questo non sono ancora mai morto ci sono sicuramente più ma per la prima cosa la produzione deve continuare noi non possiamo aiutare noi possiamo solo chiedere gli altri potrebbero essere contento di pregare spero per il migliore ma io non potevo cosa è stato di nostro figlio di unità? ho dovuto sapere arruolati ok e carte si è arruolato ok, tocca anche a Harry e ricordi Harry le donne amano un uomo in uniforme eccoci qua e anche Harry si arruola via entrambi i nostri personaggi si sono arruolati come appunto avevo detto all'inizio avevo preso una decisione e sarei andato in guerra che si è andata in attrazione ok ragazzi dicembre 1916 due anni alla pace andiamo Harry e kart puoi scegliere con chi giocare usando le fraccette direzionali Harry che approda in Francia o kart treno tedesco verso il fronte occidentale allora ragazzi qua è un mistero non so se scegliendo kart o Harry andremo a completare in specifico la storia di uno dei due oppure è solo un modo per farci iniziare poi comunque se i personaggi si alterneranno successivamente facciamo così ragazzi io direi che ci possiamo stoppare qua se avete piacere scrivetemi nei commenti con chi vorreste iniziare questa storia qua o con kart o con Harry però dobbiamo essere anche consapevoli che ci potrebbe essere il rischio che magari partendo con kart non possiamo più utilizzare Harry e viceversa quindi porteremo a termine la storia di uno piuttosto che quella di un altro questo non lo so ragazzi mi sembra strano ma secondo me utilizzeremo entrambi i personaggi comunque ragazzi ripeto se vi fa piacere scrivetemi nei commenti con chi vorreste iniziare questa avventura qua e niente come al solito se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate qualche like condividete ci vediamo al prossimo video ciao